La squadra mobile di Napoli supportata dal personale della direzione centrale per i servizi antidroga del servizio centrale operativo con la collaborazione del personale dell'unità di droga e crimine organizzato di Madrid nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha dato esecuzione all'ordinanza dell'applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre incensurati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di detenzione, acquisto, trasporto ed importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America alla Campania attraverso il canale spagnolo. I fratelli Maurelli, Raffaele e Giuseppe e nonché Paolo del Sole, già ritenuti al vertice della catena di finanziamento e importazione dell'enorme quantitativo di stupefacente sequestrato ad Aghiglias nell'estate del 2014 per un peso di circa 700 chili e tramite imbarcazioni appositamente predisposte hanno visto passato al setaccio fin nelle ultime ore tutto il patrimonio nella loro disponibilità. Nelle fasi esecutive delle perquisizioni al loro carico sono stati quindi rinvenuti e sequestrati, oltre agli ingenti proprietà di cui al decreto di sequestro preventivo notificato in sede di esecuzione delle ordinanze cautelari, stimabile in un valore di circa 10 milioni di euro, due cassaforti cavo contenenti ingentissimi valori tra preziosi, gioielli, lingotti, oltre 60 orologi per un valore stimato di circa un milione di euro e valuta liquida per oltre 200 mila euro. In particolare inoltre in uno scantinato di uno degli appartamenti nella disponibilità di Raffaele Maurelli a Pompei è stata rinvenuta e sequestrata una scatola contenente sette bombe a mano da guerra di produzione ex Jugoslavia, tutte complete di accenditore e dei giubbotti antischegge oltre ad una macchina per impacchettare denaro sottovuoto. La rimozione in sicurezza degli ordigni ha richiesto l'intervento del corpo speciale degli artificieri che hanno proceduto alla relativa distruzione. Grazie a tutti.